Scusate, sono un po' storto ma sono un mezzo meccanico diverso oggi no? E niente, l'ultima andata in farmacia era la dottoressa Gibalgina assente purtroppo che era a me Simo e l'altra che se ricorda mia come si chiama. Allora niente, sono lei che faccio il codone mascherato ovviamente, vedete una sciura, un po' di carne che conoscerà due cattoni e la fa da toni super a tutti. La vasca fa un attimo che scusate non vi passo davanti entrami in bancaresti che ho scritto cos'è che giocondo. Vado solo a pesarmi, allora la vasca c'è la pisa che è lì che inoltre ho 5 francs e invece se siete in farmacia che ho detto c'è tutto il plastico e è gratis, la vasca c'è e si sente che la fa oh Signore Gesù sono ingrassato a 8 kg ma che strano ma che strano! mi guarda che è sicuro, prendete e se si pisa c'è fuori, la mia con il paletone e tutta la caglierina. Seconda cosa, la borsetta che, eh? Pisa un po' la borsa? Se fanno la terra? Poi di quanto è aumentata? 7 kg, adesso, ora di cosa c'è? Andiamo alla borsa puttana Eva, i prismi sono miei! Grazie!